Cos'è il gel di testosterone? Il gel di testosterone è una delle varie opzioni di trattamento utilizzate oggi per trattare bassi livelli di testosterone. Applicato direttamente sulla pelle, il gel consente al testosterone di essere assorbito dalla pelle. Sono disponibili diversi livelli di dosaggio, rendendo facile per il medico curante regolare la quantità di ormoni maschili che vengono assorbiti a seguito di ciascuna applicazione. La maggior parte dei prodotti di gel di testosterone richiede un'applicazione da una a due volte al giorno. Raccomandazioni generali includono istruzioni per non applicare questo tipo di prodotto sostitutivo del testosterone direttamente ai genitali. Tuttavia, si consiglia di applicare il gel su una zona del corpo che può essere facilmente coperta con una benda o con indumenti. La natura stessa del gel rende possibile che parte del prodotto si trasferisca ad un'altra persona se viene a contatto con l'area della pelle in cui è stato applicato il gel. Uno dei migliori tempi per applicare il gel di testosterone è poco dopo la doccia. A quel punto, la pelle è pulita, creando uno punto di ingresso libero per i componenti del gel. Dopo l'asciugatura, una dose premisurata del gel viene delicatamente massaggiata sulla pelle secca. Utilizzando una semplice benda per coprire l'area, è possibile che il gel infondi rapidamente il corpo con il testosterone, contribuendo ad aumentare i livelli di testosterone molto rapidamente. Una volta applicato il gel di testosterone, la maggior parte dei prodotti consiglia che l'area di applicazione non sia esposta o che non si bagni per un periodo di almeno due ore. Molti dei gel utilizzati oggi richiedono da qualche parte nell'intervallo da 4 a 6 ore per garantire il massimo livello di assorbimento. Durante questo periodo, è meglio astenersi da qualsiasi attività che coinvolga l'acqua, compreso il nuoto o la doccia. Poiché il gel di testosterone può aumentare rapidamente i livelli di testosterone, è importante per chiunque usi questa forma di terapia sostitutiva farlo solo sotto la direzione di un medico qualificato. Monitorando i livelli di testosterone, è possibile identificare il dosaggio corretto per aumentare qualsiasi testosterone ancora prodotto naturalmente nel corpo senza sottoporre il paziente a possibili effetti collaterali. Ciò è particolarmente importante se il gel di testosterone viene utilizzato a causa di un trauma temporaneo ai testicoli o ad altri organi coinvolti nella produzione di testosterone. Poiché sono necessari meno integratori per mantenere normali livelli di ormoni maschili nel corpo, la quantità e la frequenza dei trattamenti di gel possono essere regolati di conseguenza. Grazie.